De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta, invia Carlo Del Balzo ad Avellino. Sono un po' più felice considerando i problemi che ci sono e che anche lei ha evidenziato, come per esempio l'aggressione all'economia ultimamente da parte anche della malavita. C'è stato anche un appello lanciato dai sindaci di recente di fare attenzione sui nuovi flussi finanziari che possono riguardare la realizzazione delle nuove opere, ma anche nel mirino del suo mandato, ci permettiamo di dire così, anche quella che deve essere la linea leale e onesta da parte degli enti pubblici. Io credo che se ci sono delle situazioni tali, innanzitutto i sindaci che sono i sensori del territorio possono tranquillamente denunciare questi fatti, perché limitarsi a enunciare un inquinamento dell'economia poi senza fornire manco elementi sostanziali, non è corretto da parte di chi il territorio lo vive e chi tiene al territorio stesso. Quindi noi come Guardia di Finanza siamo sempre stati impegnati nella lotta al crimine, al crimine economico in particolare, quindi non abbasseremo certamente la guardia. Il vostro impegno anche in Irpinea ultimamente si è evidenziato in particolare sull'attività degli enti pubblici, ovviamente voi non abbasserete la guardia. Assolutamente, noi gli enti pubblici per la spesa pubblica è il nostro secondo obiettivo istituzionale, noi abbiamo tre obiettivi fondamentali, il primo è l'entrata, il secondo è proprio, ma non come importanza, perché tre sono i cardini e il secondo è proprio la spesa pubblica. Noi non abbiamo minimamente mai pensato, anzi posso assicurarle che è all'attenzione della gerarchia della Guardia di Finanza la spesa pubblica, tant'è vero che sarà di prossima emanazione una circolare che prevederà espressamente i compiti della Guardia di Finanza, di Finanza nella spesa pubblica, quindi le dico proprio a livello anche centrale, c'è un rafforzamento, un'intensificazione dell'attività nella spesa pubblica. A fattor comune poi abbiamo anche una ripresa della Corte dei Conti che nella nuova veste ha dei poteri rilevanti in materia di spesa pubblica, quindi noi ci riteniamo la cosiddetta polizia erariale, quindi per i danni erariali, quindi questa è una cosa che molto ci dà a cuore.